come cazzo fa accompagnarlo così io non lo so è proprio vero che ognuno ha il suo modo questo se è giusto figaro non lo tocca neanche no non lo tocca neanche e lì sono le lezioni del coso le lezioni sua non c'è niente a fare cazzo mi sembra il Gesù di te se si mette là con le mani aperte sembra il Gesù che c'è giù a Rio de Janeiro cazzo eh Rio de Janeiro uguale cazzo con il sole poi se te lo metto giusto ecco stai lì così in testa perfetto guarda preciso uguale fate il vento del mare vento del mare che sei a posto cazzo te lele uguale uguale oh da dio li hai fatto vedere perfetto cazzo eh stavolta l'ha fatto perfetto sono stanchi che la fanno più e quando fai i video migliori Mettiglielo lì così a posto e possiamo andare dopo inclinaglielo un bel po' che almeno è a posto dai adesso è appoggiato dai lì lì lo metti lì un po' più che lo fai lì basta sono rovinato dai adesso è a posto ma va è stato fatto di proposito e metti sul davanti fa tum pum e torni indietro come l'hai messo a te andava su per forza adesso quando vai su il legno cade ti incuzzi e passi fuori al marco lo faceva sicuro garantito dai 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 che non scivola dai che non scivola non ti guardiamo non ti guarda nessuno tengo io il sasso passa guarda se non fai se non fai non fai eh scusate almeno è facile no così fa il saltino perché l'hai preso di sbesso? perché l'hai preso di là che rampa tu l'hai preso di qua perché l'hai preso tutto storto guarda che fa il salto Lele e adesso fa il salto e fai anche quello in cima vai se lo tolgo io si sbaglia la porca loca prima gli ha dato a quello gli ha dato support salta troppo e si e esce già la e poi c'è male no invece c'è fuori a parte che il rastello a parte c'è il rastello oi a parte c'è oi a parte c'è oi a parte c'è oi oi Poi ci sono i campi e poi ci sono i campi. arrivo il rumore è molto l'intenzione ma sono più attraverso aspettate l'acqua è bello, è il tuo stile non ne ha Grazie.